Meet Me Tonight è la notte dei ricercatori che si terrà in Lombardia. La notte dei ricercatori è un progetto finanziato dalla Commissione europea e esiste da otto anni. La prima edizione è stata realizzata nel 2005, dunque siamo all'ottava edizione. Si è tenuta a Milano due anni fa, presso un dipartimento dell'Università degli Studi di Milano e adesso tutte le principali dell'Università di Milano si sono riunite per realizzare questo progetto. Si terrà presso otto sedi, dunque le sedi principali ovviamente saranno a Milano, dunque presso i giardini di Porta Venezia e Indro Montanelli e presso Palazzo Lombardia e poi ci saranno altri musei della città coinvolti, il Planetario, l'Orto Botanico, il Piccolo Teatro e poi presso le altre sedi nelle altre città, tipo a Brescia, a Como, a Lecco, a Mantua, a Lodi, verranno aperti proprio i campus per poter, affinché i cittadini possano proprio mettersi in contatto direttamente con i ricercatori. Diciamo che il protagonista della serata è proprio il ricercatore, perché il ricercatore è una persona normale però che fa un lavoro straordinario e dunque deve mettere a conoscenza la propria attività, il proprio lavoro nei confronti dei cittadini. L'obiettivo del progetto è quello proprio di portare i ricercatori in piazza per organizzare delle attività con i cittadini. È importante che siano colpite tutte le fasce di età, dunque che tutti, dai bambini agli adulti, vengano a conoscenza di quello che può fare un ricercatore. Dunque abbiamo declinato diverse attività di ricerca in macro categorie che vadano dall'arte a creatività, ai giochi, sport, food, scienze società, affinché i cittadini possono capire esattamente che attività che lavoro svolge il ricercatore. Saranno organizzate più di 150 attività proprio presso le sedi, che siano mostri, che siano viste guidate, laboratori interattivi, giochi, dimostrazioni, proprio verranno allestiti dei piccoli stand affinché tutte le persone, i cittadini che sono presenti presso queste sedi possano proprio venire a contatto con le attività svolte dai ricercatori e dunque anche interagire con loro. Però il ricercatore è anche una persona che ha delle passioni, che suona, che fa sport, che canta. Dunque abbiamo organizzato anche un concorso musicale proprio per fare una competizione tra le band formate da ricercatori. Dunque è un concorso europeo, aperto a tutti i cittadini europei, tutti i generi musicali. Lo apriamo a breve il 18 luglio, fino alla fine del mese di agosto e la finale che si terrà il 28 settembre vedrà sul palco solo le 10 migliori band finaliste del concorso musicale. Quello che è importante è coinvolgere proprio i cittadini, interagire con i ricercatori, dunque soprattutto anche creare squadre sportive che giochino contro squadre composte da cittadini o da ragazzi, proprio per poter in una sera ludica intrattenersi e comunque capire esattamente chi è il ricercatore e che cosa fa.